Nasce il Comitato per la tutela e la valorizzazione del centro storico. Dopo aver raccolto negli ultimi anni le istanze provenienti da diversi cittadini, in merito alle più svariate tematiche, è parso opportuno ai promotori di questo nuovo ente convogliare in un organismo unitario le proposte, le osservazioni, le rimostranze dei singoli da sottoporre in maniera collettiva alle autorità locali. Noi abbiamo costituito un comitato civico di persone che vogliono collaborare con l'amministrazione comunale. Quindi non vogliamo creare polemiche, non vogliamo contrasti, non siamo qui per rialzare i forconi, ma siamo qui per collaborare e vedere insieme all'amministrazione comunale i vari problemi. Una delle finalità è quella che l'associazione possa così diventare un collettore di idee per avviare una proficua e fruttosa collaborazione, al fine di suggerire proposte ed individuali criticità in quell'ottica di partecipazione che il Comune ha proposto anche alle associazioni di commercianti, ma che fino ad oggi non ha raggiunto la sistematicità sperata. L'obiettivo chiaramente è quello di non abbandonare il centro. Allora, il declino dei centri storici è un fenomeno che non appartiene solo a Castello, è un fenomeno abbastanza diffuso. Noi abbiamo deciso di opporci, per quanto ci è possibile, per quanto riusciremo, a che questo succeda a Città di Castello. Quindi dalle piccole cose, ma soprattutto vorremmo essere un interlocutore delle amministrazioni, un interlocutore attendibile alle amministrazioni, un collettore di idee, di pensieri, di problemi della gente, per essere interlocutore attendibile alle amministrazioni. Al centro dei lavori del Comitato c'è la ZTL, i parcheggi, la promozione del commercio di qualità, un regolamento che connetta strettamente l'occupazione del suolo pubblico al decoro urbano e imponga il rispetto dei limiti alle emissioni acustiche. Da qui, come detto, nasce lo statuto del Comitato che intende operare in campo sociale, culturale ed istituzionale per scelte maggiormente consapevoli sul territorio del centro storico cittadino. Il Comitato esorta gli interessati a mettersi in contatto attraverso la casella di posta elettronica C'è un problema di fondo che è dato dall'abbandono della città all'ambopolo della Movida, ma bisogna creare delle alternative, altrimenti la città morirebbe. Il valore del centro storico è dato dai residenti.